è il muro non ci credo la mia ultima il dubbio bello grande momento decisivo bello mi è piaciuto il mio potere io ho detto fai un muro su dopo ma questo è scema sage in sight ma come cazzo sto sparando col phantom potevi piazzare sai arrivo arrivo le gambe vittoria degli attaccanti buona buona devo rivedermi subito le clip la collatera è stata bellissima e ne abbiamo fatto due in sta partita una io e una tu ho fatto una giocata bellissima con la che cazzo è questa qua cosa sblocchi al set con la viper? no ho sbloccato il 6 ci avevo fatto il 6 all'inizio del 7 avevo sbloccato la gergina